segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te buongiorno ben trovato sei arrivato in questo studio col tuo ultimo libro l'anno del fascismo 1992 nel 1922 pardon cronaca di una marcia su roma ecco io partirei forse proprio da questa cosa no perché tu c'è un inizio molto molto bello a me sembra molto attuale in cui tu dici che tutto incubava minaccioso nei dieci brevi mesi di quel 22 che sembrava un anno difficile e violento in un paese smarrito e invece era la soglia italiana della dittatura allora partiamo da una cosa giorgia meloni non ha preferito parola su anniversario della marcia su roma avrebbe dovuto farlo sarebbe stata una bella occasione per saldare diciamo dei conti col fascismo che purtroppo non sono ancora chiusi avrebbe dovuto farlo per due ragioni la prima come italiana perché è una frattura che segna un prima e un dopo il 28 ottobre del 22 la data convenzionale della marcia su roma e quindi avrebbe dovuto sentire il dovere di riflettere su quel momento in cui il paese si è consegnato a una dittatura che poi è durata vent'anni e ci ha portati all'alleanza con hitler al delitto matteotti alle leggi razziali al disastro della guerra alla fine della libertà e poi avrebbe dovuto farlo per un dovere supplementare per il mondo da cui lei proviene e per il cammino che ha fatto per prendere anche le distanze da quel mondo e fare un saldo finalmente e dare un giudizio non su episodi peraltro universalmente condannati come le leggi razziali e ci mancherebbe altro che non fossero condannate ma dare un giudizio sulla natura del fascismo quel giudizio manca lei si è rifatta al giudizio di fini io l'ho già fatto quel percorso perché ero con fini non mi sono non mi sono opposta non mi sono dissociata non mi sono dissociata ma un presidente del consiglio in un anniversario rotondo come il centenario quando il paese è come se sentisse un gong che richiama l'attenzione su quella data forse avrebbe il dovere di un'analisi un pochino più approfondita lei ha detto una frase sono non ho nessuna simpatia per i regimi virgola compreso il fascismo virgola ed è andata avanti non è un problema di simpatia e non è un problema da mettere tra due virgole forse merita un'attenzione supplementare ecco è vero è un centenario è una data molto importante quindi si può fare anche un bilancio di questo paese e la cosa che mi viene in mente proprio pensando a questa frase che tu dici no su questo paese su quest'anno difficile violento il paese smarrito è come l'italia del 2022 beh fortunatamente è un'italia completamente diversa infatti nel mio libro non faccio nessuna analogia che sarebbe ridicola intanto bisogna tenere presente che i protagonisti sono sproporzionati perché fortunatamente non c'è un Mussolini all'orizzonte ma non ci sono nemmeno dei turati dei giolitti degli sturzo e poi soprattutto non è come dice qualcuno l'Europa ci protegge noi siamo Europa noi siamo Europa e l'Europa non è un'entità geografica definita da una moneta l'Europa è definita da dei principi e da dei valori che sono scritti nelle costituzioni dei nostri paesi quindi noi siamo quella cosa lì altrimenti non siamo nulla se non siamo la democrazia delle istituzioni e la democrazia dei diritti siamo una pura espressione geografica eppure tu dicevo non ho fatto nessuna analogia ed è vero non l'hai fatta però per esempio no io trovo a pagina 25 il fascismo il promotore il collettore di tutto questo oltre che il primo attore offre una cornice politica alla rabbia beh in qualche modo oggi nel tuo pezzo di oggi nel tuo editoriale di oggi raccontando cos'è secondo te questa destra al potere che riporta in qualche modo in campo resuscita l'arte della politica e quindi anche l'ideologia c'è questo elemento di come il malessere che anche i Cinque Stelle hanno usato in maniera molto forte arrivano al 32% però qui è diverso dici tu qui si crea un blocco sociale permanente che però si bada su quelle rabbie, su quelle paure non c'è dubbio hai colto un punto che non è l'unico su cui si può riflettere pur facendo tutte le differenze naturalmente e sapendo che quell'esperienza non si può riproporre nessuno attenta alle istituzioni e alla democrazia il problema è che concezione della democrazia abbiamo io credo che la Meloni voglia mantenere questa caratteristica di ribellismo contro l'elite, contro l'establishment e quindi di vivere un paradosso qualcosa di molto complicato in natura cioè essere a capo del governo guidare il paese e nello stesso tempo impersonare la ribellione contro la classe dirigente contro l'elite contro i cosiddetti poteri forti per esempio plasticamente lo sta facendo perché mentre arriva a Bruxelles